Musica Mercoledì 1 aprile, buongiorno e bentrovati per questa prima edizione con l'informazione regionale. Legge di stabilità e bilancio di previsione per l'anno in corso approderanno in Consiglio regionale prima della scadenza dell'esercizio provvisorio fissata al 30 aprile. Ma ad oggi nulla è dato sapere sulle risorse destinate alla crescita occupazionale come promesso da Paolo Frattura. Sentiamo il servizio di Giovanni Minicozzi. A fine aprile terminerà l'esercizio provvisorio della regione ma ad oggi non esiste traccia né trapelano indiscrezioni sulla nuova legge di stabilità e sul bilancio di previsione per l'anno in corso. Stando alle promesse fatte dal Presidente Paolo Frattura, da quest'anno le risorse dovrebbero essere destinate alla crescita e alla creazione di nuova occupazione salvaguardando quella esistente. Sarà vero? Si vedrà. Intanto la conferenza dei capigruppo di Palazzo Moffa ha calendarizzato i lavori per la sessione di bilancio pur non disponendo dei documenti contabili che dovranno essere elaborati dalla Giunta. Abbiamo programmato i lavori per aprire la sessione di bilancio e quindi iniziare entro i temini previsti dall'esercizio provvisorio, licenziare il bilancio della legge di stabilità e il bilancio di previsione 2015 così come anche il bilancio pluriannale. Ovviamente ho preso impegni con la conferenza dei capigruppo che consegnerò il giorno 7, nella giornata del 7 aprile, i documenti che ovviamente mi devono pervenire da parte della Giunta regionale. La discussione comincerà il prossimo 27 aprile e proseguirà ad oltranza. Ma che tipo di bilancio sarà? Sarà una legge finanziaria e un bilancio di previsione che ancora in questo inizio di anno ha segnato un po' il passo. Io però credo che nell'articolato della legge di stabilità ci sarà qualche ulteriore invece accenno a una ripresa dell'attività di questa regione. E' anche vero che quest'anno la Regione sperimenterà il nuovo modello di bilancio e di legge finanziaria in applicazione del decreto legislativo 118 che deve essere reso più trasparente la gestione e quindi l'attuazione del bilancio stesso. Intanto nella maggioranza ma soprattutto nel PD soffiano venti di guerra. Io leggo dagli organi di informazione le notizie e rimetto ovviamente a quello che sarà la decisione mi pare all'interno del PD. Non credo che in maggioranza ci sono altre frizioni. A settembre scadrà il suo mandato, si ricandiderà? Ma guardi, intanto è prematuro. Io sono stato candidato per fare il consigliere regionale. Il Presidente del Consiglio è un di più. Così come i Presidenti di Commissione, così come l'assessore, credo che saranno riviste le posizioni se è necessario rivederle. Il Presidente Niro dunque non scopre le sue carte ma le grandi manovre per conquistare la poltrona più alta di Palazzo Moffa sono cominciate. Torna a riunirsi domani pomeriggio alle 15.30 il Consiglio Provinciale di Campobasso. Di nuovo all'ordine del giorno la mozione a firma del Presidente dell'Assise Gianluca Cefaratti e altri con la quale si invita la Regione a destinare i 24 milioni di euro previsti per realizzare la metropolitana leggera alle strade provinciali e a quelle di Bonifica Montana. La scorsa seduta saltò per l'assenza del numero legale. Non si era presentata l'intera minoranza di centro-sinistra e quattro consiglieri di maggioranza. Prevista la discussione anche dell'ordine del giorno su interventi urgenti sulla Trignina e di quello sull'inserimento lavorativo degli utenti psichiatrici. La richiesta arrivata in Comune a Campobasso di installare una centrale a biomasse nell'area di Mascione sta sollevando preoccupazione tra i cittadini, specie nella contrada in questione. In Comune si è riunita la Commissione Ambiente dove ha relazionato l'assessore all'urbanistica Bibiana Chierchia. L'opposizione vuole vederci chiaro e vigila. Sentiamo il servizio di Tonino Danese. Sala consigliare gremita a Campobasso per la Commissione Ambiente oggetto la richiesta della società RG1 Campobasso SRL con sede a Verona arrivata negli uffici dell'assessorato all'urbanistica di realizzare una centrale a biomasse nell'area di Mascione. Oltre ai consiglieri presenti anche molti cittadini della contrada. La preoccupazione in città si è diffusa appena saputa la notizia. Il 9 aprile è stata convocata la conferenza di servizi. L'assessore all'urbanistica Bibiana Chierchia è stata chiamata a relazionare. Si tratta di un cogeneratore a biomasse che produrrebbe, nel caso venisse installato, produrrebbe 200 kW elettrici e 400 kW termici. Corrisponderebbe al servizio dell'energia di 60 appartamenti per intenderci. Verrebbe alimentata con cippato, i residui boschivi. E ancora viva nella mente di tutti la vibrante protesta nell'area del Matese che ha costretto la regione, frattura a revocare l'autorizzazione delle due centrali a Campochiaro e San Polo Matese. Il Consiglio Comunale di Campobasso, ebbene ricordarlo, votò no all'installazione degli impianti. Il Comune si muove su un campo minato e l'argomento scotta. Tutto quello che può essere fatto dal punto di vista politico e amministrativo per tutelare la salute dei cittadini, contrastando anche il permesso per questa costruzione, sarà fatto. Se non ci fosse stato il tempestivo attivarsi da parte dei tecnici della struttura urbanistica a convocare rapidamente quella conferenza di servizi, paradossalmente, come è successo in altri territori, avremmo potuto assistere a un inizio lavori perché quel tipo di richiesta semplificata appunto, procedura abitabilità semplificata, lo avrebbe consentito. L'opposizione a Palazzo San Giorgio agli occhi, apertissimi sul tema, subito il Polo Civico ha chiesto chiaramente all'amministrazione Battista e il Movimento 5 Stelle Allerta e Vigila. Certamente l'impianto non deve preoccupare di per sé perché è un impianto di cogenerazione di piccola portata, potrebbe anche essere in teoria qualcosa di positivo per il territorio. Però purtroppo è mancata la concertazione, manca un piano di zonizzazione, manca un piano energetico regionale, pertanto mancano quegli elementi fondamentali per capire se un impianto è effettivamente realizzabile o meno. Preoccupa soprattutto la filiera del materiale da bruciare perché non sappiamo bene questo cipato da dove arrivi, di che qualità è e dobbiamo stare molto attenti con le eventuali emissioni. Dobbiamo stare attenti affinché questa produzione di energia non nasconda altri tipi di interesse. Quindi noi vogliamo vederci chiaro, studieremo in ogni dettaglio la questione e dopo ci esprimeremo. Ma già adesso l'orientamento si avvia per un no, nel senso che non abbiamo quelle sufficienti garanzie per poter dire sì è un impianto che ci piace. Appuntamento questa sera alle 21 con Millibar, il settimanale a cura di Pasquale Di Bello. Nella puntata odierna si parlerà di libri, ospiti in studio da Termoli, Franco Valente, Giuseppe Zio e Nicola Mastronardi. E con questa notizia si conclude l'appuntamento con il telegiornale. Passiamo adesso alla rassegna stampa. Iniziamo la nostra rassegna stampa con il giornale del Molise.it. Nella home Biomasse cresce l'allarme tra i cittadini affollata a riunione al comune di Campobasso. Riforma della scuola, il sottosegretario Faraone, autonomia e maggiori risorse per ripartire. Venitelli, la segreteria regionale del PD, esempio di scadimento etico. Intervista a Massimiliano Scarabeo sul lavoro, imprese e crisi nel PD. Dopo 12 anni torna e fa il pieno di consensi. La passione tra gli oliveti di Venafro domani si replica. Alla Rino riuscita l'ottava edizione della Passione Vivente organizzata dall'associazione CAR. Isernia in prima pagina sul giornaledelmolise.it, nuovi mal di pancia nella maggioranza che sostiene Brasiello. Sempre nella home troviamo l'ora del rosario, Fiorello sbarca all'auditorium di Isernia a maggio tre spettacoli. Isernia ancora successi per la compagnia teatrale Cast, col diretti Molise plaude all'etichettatura di provenienza delle carni. Si parla di lavoro, bilaterali regione, il governo, primi riscontri positivi, Capracotta, 1914-2014, 100 anni di sport, cronache e storia dello sci-club, presentato un libro. Alla Rino, parte fiammata della bombola, salotto a fuoco, salva una famiglia. Naturalmente troveremo anche editoriali, idee, opinioni e altre notizie che riguardano la regione, l'Italia e il mondo. E passiamo agli altri quotidiani della nostra regione. Iniziamo con primo piano Molise. Sanità in prima pagina, arriva la cabina di regia, intanto il dibattito è sempre infocato. L'onorevole Leva torna a incalzare frattura. La giunta di Palazzo Vitale approva l'istituzione di una commissione che a titolo gratuito farà da supporto per riorganizzare il sistema regionale. In prima pagina, a rischio, la tenuta del concordato zuccherificio ancora senza acquirenti va a vuoto, pure la quinta asta. L'avvertenza ITR, il lavoro, ancora in prima pagina ha trovato l'accordo. Il ministero dice sì ad altri sei mesi di CIGS per 247 lavoratori. Campobasso, protezione civile, 84 precari di nuovo disoccupati e pronti ad azioni eclatanti. Ancora a Campobasso, la centrale a Biomasse a Mascione, primo stop in municipio, in commissione approvato da maggioranza e opposizione, un documento per la tutela dell'ambiente. Lo scatto ritoccato, la deputata sparisce dall'immagine inviata a primo piano, l'ira della Venitelli a sinistra di Matteo. C'ero io e si può vedere la foto appunto in questione. Il sottosegretario a Campobasso, Faraone, difende la buona scuola dal prossimo anno, più soldi ai docenti. Una notizia di Isernia in prima pagina, su Sulti dentro la maggioranza, il gruppo di Galasso diserta il consiglio. Abruzzo vasto, illuminazione pubblica e servizi, scatta la protesta dei residenti di Via Riccione e di Via Montevecchio. Lo sport, promozione, recupero al Ballarin, Quercus e Real Prata in cerca di punti salvezza. Futsal, Venafro, KO con il San Michele, i bianconeri dicono addio alla Coppa Italia. Passiamo all'altro quotidiano della nostra regione, il quotidiano del Molise, la buona scuola passa per le riforme. Davide Faraone dice autonomia degli istituti, maggiori risorse e più insegnanti. Ieri a Campobasso incontro con il sottosegretario all'istruzione, folta delegazione di professori e studenti. Isernia in prima pagina, ufficializzata la proroga della CIGS alla ITR, saranno ritirati i licenziamenti annunciati a febbraio. Boiano, viadotto, callora, tempi lunghi per l'apertura, stavolta l'intervento più duro è di cosmo tedeschi. La politica, Venitelli e Fanelli ormai sono ai ferri corti. Fra la segretaria PD e la parlamentare è rottura. Trivento, interessate, otto famiglie, una centenaria e altri tre ultraottantenni isolati dalla frana che avanza. Campobasso Biomasse a Mascione si compatta il fronte del no, ancora Campobasso opere pubbliche, 68 milioni in tre anni. Gianfranco Brunetti e le stelle, l'universo secondo un brillante scienziato isernino, prestigioso riconoscimento per l'isernino Brunetti. Lo sport in prima pagina per il quotidiano del Molise, serie D, Agnone attesa per il nuovo allenatore, il termoli pronto per Civitanova. Calcio a 5, il Venafro va a KO al cospetto del San Michele e dice addio alle final 8. Ciclismo, giro d'Italia, Campitello Matese scatta il conto alla rovescia. Uno sguardo anche alla Gazzetta del Molise, in prima pagina troviamo 84 ragazzi della protezione civile, li manda a casa. Agli amici degli amici elargisce denari, Ersilia Occhio Nero 10.574,57, Giovanni Musacchio 10.574,57, premiati per il grande lavoro svolto. Per la Gazzetta del Molise, l'Oscar del giorno a Salvatore Colagiovanni, il tapiro del giorno a Bibiana Chierchia. Uno sguardo a futuro Molise, in prima pagina nella home, ruta PD, corpo forestale e patrimonio da tutelare, assorbire personale e funzioni di polizia provinciale. Piano casa, cavaliere, accelera i tempi, fissata a mercoledì 8 aprile la discussione del testo. Venitelli, la segreteria regionale del PD Molise, si conferma la meno idonea a rivendicare l'unità del Partito Democratico. Si parla di attualità e di politica e poi ancora col diretti Molise, arriva la prima Pasqua con la provenienza dell'agnello in etichetta, reso conto dei lavori della seduta antimeridiana del Consiglio regionale del Molise. Storico evento, Rosario Fiorello all'Auditorium di Sernia per tre giorni in un nuovo spettacolo teatrale. Si parla anche di sanità in Molise, frattura a leva, ora provo a farmi capire anche da te. Naturalmente su Futuro Molise troveremo altre notizie che riguardano la nostra regione, l'Italia e il mondo. E passiamo a dare uno sguardo ai quotidiani nazionali, iniziando dalla Repubblica in prima pagina, sì al rimpasto al posto di Lupi, arriva del Rio. La corsa a quattro per sostituirlo, una donna NCD agli affari regionali. Bersani dice Renzi non ha più i numeri. In prima pagina Turchia indagava su un manifestante ammazzato blitz delle forze speciali. Sequestrato il giudice di Gezi Park, terroristi uccisi, muore il magistrato. Sempre in prima pagina il dialogo sul nucleare, Iran usa la lunga notte della trattativa non stop. E diamo uno sguardo al Corriere della Sera, la prima pagina dove troviamo svelati i tagli di Cottarelli. Per quanto riguarda l'economia, pubblicati i 19 rapporti dell'ex commissario, gli interventi possibili dalla politica ai enti locali. Cala il lavoro per le donne a febbraio, persi 42 mila posti. Sale la disoccupazione. Intercettazioni dall'Emal contro attacco, il CSM dovrebbe vigilare di più sui giudici. E naturalmente in prima pagina anche sul Corriere della Sera troviamo la notizia che riguarda Istanbul, rapito in tribunale dai brigadisti turchi. I terroristi, il blitz, morte di un magistrato. Passiamo alla prima pagina del giornale. Renzi tra ladri e disoccupati. Sinistra allo sbando, così titola. Lo scandalo di Ischia sfiora l'esecutivo. Intercettata la sottosegretaria NCD Vicari, si dimette il sindaco dell'Isola. È vicino a Guerini, fedelissimo del Premier. I dati Istat smentiscono il governo. Calano i posti di lavoro. Bruxelles, falsi miti e vere canaie. Cara destra, prima di incensarlo ricordati che Sarkozy è un farabutto. Sempre in prima pagina, restato senza prove, ora faccio volontariato. Giuseppe Orsi, ex numero uno di Finmeccanica. La prima pagina che riguarda la stampa a tutto campo parla del Museo Egizio. Oggi comincia il futuro. Primo aprile di festa per Torino e per la cultura internazionale. La collezione più antica del mondo apre al pubblico il nuovo allestimento, totalmente rivoluzionato, su una superficie espositiva raddoppiata. Per tutto il giorno, ingresso gratuito con orario continuato dalle 9 a mezzanotte. Passiamo ora al fatto quotidiano. Chi controlla il telefono di Renzi. Il cellulare del Premier è intestato alla Fondazione Open, creata con Marco Carrai, associazione di cui si conoscono solo in parte i finanziatori e che nel 2013 spese 78 mila euro in telefonate. Passiamo adesso alla prima pagina dell'avvenire. Azzardo, la salute prima del mercato. Sentenza della consulta, cambiare regole si può. Secondo i giudici costituzionali sono legittime le restrizioni all'attività di organizzazione e gestione dei giochi dati in concessione. I stat sempre per l'avvenire in prima pagina calano gli occupati, gelati gli entusiasmi. A febbraio la disoccupazione sale al 12,7%. Pagano soprattutto le donne. Ancora per quanto riguarda i quotidiani nazionali, il mattino Vaticano e partiti, la rete della COP. Appalti della Santa Sede e soldi alle fondazioni nel mirino dei PM sarà sentito da Lema. In chiesta di Ischia si dimette il sindaco Ferrandino, il caso dei 20 mila euro di spumante venduti dall'ex Premier. E per concludere la nostra rassegna stampa con i quotidiani nazionali, naturalmente diamo uno sguardo alla gazzetta dello sport che titola Conte vince l'Italia. Quasi Torino 1 a 1 con l'Inghilterra. Applausi al CT. Si parla anche di Inter in prima pagina, la Juve netto sfida Buffon, Juve no al prestito. E poi ancora il match di sabato, sorpresa 70 milioni pari, il Milan vale come il Palermo. E con questa notizia si chiude l'appuntamento con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.